Il nuovo intervento normativo, il nuovo condono edilizia, la nuova pace edilizia, il nome è ancora da definire, chiamarlo condono comunque potrebbe essere controproducente, almeno dal punto di vista politico, quello che è, è, si andrà ad intervenire per consentire la sanatoria di quelle piccole difformità, leggere difformità, è stato annunciato dal ministro Salvini negli scorsi giorni, te ne ho già parlato in una live e in un video dedicato, andrà a consentire di sanare quelle piccole difformità, anche strutturali, interne, tra virgolette, finestre, ma anche altri elementi. Ti lascio in descrizione gli approfondimenti, i link agli articoli per gli approfondimenti, perché escono delle indiscrezioni su ciò che si andrà a toccare con questo probabile decreto legge. Sto registrando per la seconda volta questo contenuto perché mi ero accorto di non aver avviato la registrazione, o meglio, l'audio. Quindi avevo registrato solo il video con un audio pessimo, però potrei decidere di pubblicare comunque quella pubblicazione, beh, dai, quella registrazione. Lascia mi piace e attiva tutte le notifiche se vuoi sostenere questo mio lavoro online e accedere alle domande, alle risposte, alle chatte esclusive, ai video esclusivi, puoi farlo attraverso un abbonamento YouTube o su Patreon. Ti ringrazio, ringrazio tutti gli abbonati che sostengono questo mio lavoro online di questo canale. Grazie mille. Probabilmente sarà un decreto legge. Salvini ha detto, ho sentito in radio che l'amico Tajani ha detto di non aver ancora letto la proposta, la porteremo al Consiglio dei Ministri e vedrete che non sarà, che non andrà a sanare abusi e dirizi, ma ad alleggerire i comuni e a fare felici i cittadini che ci ringrazieranno. Uno dei punti è alleggerire i comuni dal punto di vista burocratico. Va bene, perché ci sono tante sanatorie che non possono essere vase o rallentano tutto il litro, perché sono di piccole difformità che comunque ingolfano il sistema, anche se probabilmente questo ingolfamento, si dice ingolfamento, non lo so, poteva valere nel 2021. Oggi non credo che ci sia stondata di pratiche edilizie nei comuni. Vabbè, comunque, ciò su cui si andrà ad intervenire con questo probabile decreto sono quelle difformità di natura formale, del progetto, delle planimetrie, di quanto rappresentato, di quanto presentato, dipende da quando, perché negli anni 70, negli anni 60 i progetti erano molto scarni, non c'era obbligo di presentare, oggi devi rappresentare tutti i prospetti, le sezioni, il taglio, le sezioni orizzontali, le planimetrie, la distribuzione interna, vari elementi che negli anni indietro non era necessario. Ho visto alcuni progetti, penso li abbiate visti tutti, quelli fatti cartacei, quelli eliocopiati all'epoca, si eliocopiava anche negli anni 90, dove c'era un prospettino, una sezioncina per le altezze, talvolta nemmeno c'era la distribuzione interna, c'era solo l'ingombro in pianta di quanto... e poi progetti fotocopia, case anni 60-70, tutte uguali in una determinata zona, perché c'era il tecnico di riferimento che utilizzava lo stesso progetto, non c'erano limiti, elementi, si costruiva a due metri dalla strada. Tutto questo, di natura formale, i più piccoli di natura formale, potrebbero essere sanati facilmente, ad oggi con difficoltà, con questo condono, probabilmente. Io lo chiamo condono perché è più facile capirci. Sanatoria è quello che il testo unico ad oggi già permette. Non si parla di immobili nuovi, da zero. Molti mi fanno domande su soppalchi, balconi, verande, porticati. Non so rispondere ancora. Gli elementi di cui si parla sono muri, soppalchi, finestre, nicchie, cornicioni, porte, balconi? Probabilmente. Perché si parla di difformità interne, nel sito del MIT è messo tra virgolette, anche difformità strutturali, non immobili radicalmente abusivi, come ti ho detto. Quindi, tre livelli circa, come riporta il Sole 24 ore, saranno gli interventi sui quali questa norma andrà a consentire le sanatorie. Quelli di natura, appunto, formale, le carte, come si dice, le carte, mettere a posto le carte, quelle leggere, non essenziali, spostamenti di finestre, spostamenti di cornicioni, modifiche interne, quelle realizzazioni che talvolta non erano nemmeno necessarie a indicarle nelle pratiche, nelle vecchie pratiche, oppure, quando era necessario, non è stato fatto, oppure è stato fatto in modo difforme, ma comunque non sanabile, bisognerà vedere adesso quanto sarà questa possibilità di sanare le difformità, e poi il livello più alto è quello della doppia conformità, cioè superare quell'elemento imprescindibile che ad oggi il testo unico dell'edilizia prevede per poter sanare una difformità non autorizzata, e cioè questa difformità doveva essere autorizzabile nel momento in cui è stata realizzata, è autorizzabile nel momento in cui è presentata la sanatoria. Doppia conformità. Se nel momento in cui è stata realizzata era autorizzabile, ma oggi no, non si può sanare. Viceversa la stessa cosa. Dovrebbe superare anche questo per le piccole difformità che non possono essere sanate a causa di questa regola del testo unico dell'edilizia che è additata dalla stragrande maggioranza dei professionisti come un male per quelle piccole differenze che effettivamente non hanno un impatto ambientale, estetico, o non hanno un impatto sul territorio, ma che comunque bloccano l'edificio. Non riesci a compravenderlo. Se chi compra un edificio fa una verifica come dovrebbe fare chiunque, perché io non capisco perché per andare a comprare il telefono guardiamo mille recensioni, ci guardiamo come funziona, come non funziona, e poi vai a comprare la casa e la compri fidandoti così a chiuso occhi del venditore che non è nemmeno un tecnico. Cioè, come fai? Vuoi verificare che sia autorizzata, che sia autorizzata in quel modo? Non lo puoi verificare tu. Ti devi affiancare ad un professionista che sia regolare, che sia tutto realizzato in modo regolare, perché poi i problemi stanno all'acquirente. E poi le case con le difformità non possono essere ristrutturate, non possono essere ristrutturate e non possono essere utilizzati bonus per le ristrutturazioni. Un'altra probabile modifica alla normativa riguarda le tolleranze, quel 2% sulle tolleranze costruttive che tutti hanno imparato a conoscere nel corso degli anni, soprattutto chi ha avuto a che fare con abusi e difformità sul proprio immobile, potrebbero essere incrementate. Andremo a vedere quanto sarà questa percentuale che renderà legittimo il realizzato entro una certa percentuale rispetto a quanto autorizzato. con questo concluso, non perderti i prossimi contenuti, perché come sempre nel mio canale ti aggiorno sulle ultime notizie, approfondisco poi i testi, quando avremo a disposizione il testo, la bozza del testo del nuovo decreto, presumo a questo punto che sia un nuovo decreto, l'analizzerò come faccio sempre. Quindi non perderti i prossimi contenuti, io sono qui principalmente per questo, per informare e tradurre a chi non è del settore quali sono le modifiche normative, quali sono gli ambiti di applicazione delle modifiche normative e le conseguenze e le interpretazioni su quanto non è esplicitato nelle norme, nei chiarimenti. Cerco di entrare dentro per una questione professionale, perché lo faccio da anni per professione e ora lo condivido anche con te. Quindi attiva tutte le notifiche. Su YouTube puoi attivare le campanelle, attivare le notifiche, così non ti perdi i prossimi. Ecco, vedi, per esempio, no, non te lo faccio vedere, però ci sono delle notifiche su YouTube, perché anch'io sono iscritto a YouTube, a vari canali di interesse personale che approfondisco e quando pubblicano qualcosa mi arriva la notifica. E comunque controlla regolarmente, perché io regolarmente ogni settimana pubblico. Ah, non mancare le live, martedì e venerdì alle 14 sono sempre in live. Tranne per eventi straordinari potrei fare delle live in più, ma gli appuntamenti fissi sono quelli, martedì e venerdì. Ad oggi la programmazione di questo 2023-2024 è così. Ti ringrazio di essere arrivato fin qui, lascia un mi piace, ci vediamo al prossimo video.